La Corte di Cassazione ha dato il via libera ai sei quesiti referendari sulla giustizia. Prosegue l'azione di Forza Italia Giovani che in varie piazze italiane sta raccogliendo le firme necessarie. Ad Andria le parole di Gaetano Scamarcio davanti al banchetto di raccolta delle firme in Viale Crispi. La Corte Italia Giovani scende in piazza, oggi ad Andria, in piazza di Zappatica, sui referendari sulla giustizia. La Cassazione ha approvato i sei quesiti, contiamo che si vada al voto in primavera, questa mattina grandi risposte alla città e alla popolazione raccolta un'altra 250 firme, siamo orgogliosi di questo risultato e speriamo che presto possa andare al voto in un referendum di questo semestre.